Ragionare su come utilizzare questi mezzi in maniera consapevole, in maniera realizzata, in modo spesso pensano che con un click si possa fare tutto e si possa avere tutto a portata di mano. Ecco, proprio perché noi abbiamo la contenza che questo è un mezzo straordinario, se internet nel 2009 è stato candidato per il premio Nobel della Pace vuol dire che qualche potenzialità di positivo c'è e ne siamo tutti consapevoli, però dobbiamo essere altrettanto consapevoli che nel loro utilizzo, nell'utilizzo di questa particolare, diciamo, su rete, dobbiamo avere quello che è successo e eventualmente se siamo di fronte a un computer spegnerlo direttamente staccando la corrente in faccia di lo spegnimento normale. Quindi via collegamento a internet, via la corrente.